zona rossa ecco tutte le regole in vigore da mezzanotte acquaroli puntiamo su tracciamento e vaccini aspettiamo i giusti ristori maltrattamenti e violenza domestica tre denunce a fano attività in crisi bar costretti a chiudere agenzie di viaggio ferme da un anno buona serata questo è il telegiornale di rossini tv di oggi martedì 9 marzo e queste sono le ultime ore nella zona arancione infatti da domani mercoledì 10 marzo anche la provincia di pesaro urbino come ormai ben sapete entra in zona rossa almeno fino a domenica 14 marzo e allora in questo primo servizio vi vogliamo ricordare quali sono le limitazioni del nostro vivere quotidiano che andremo a vivere appunto a partire proprio da domani ad un anno dal lockdown cominciato a marzo 2020 questa volta non comincia un lockdown bis ma ci somiglia parecchio da mercoledì 10 marzo e almeno fino a domenica 14 marzo anche la provincia di pesaro urbino viene blindata in zona rossa rispetto alla zona arancione che si conclude oggi le limitazioni diventano ancora più stringenti a cominciare dagli spostamenti al presistente divieto di spostamento fra regioni e fra comuni la novità è che non ci si può spostare nemmeno all'interno dello stesso comune di residenza salvo comprovate esigenze di lavoro e salute in parole povere si può andare a lavorare rientrare a casa fare la spesa e poco altro sempre che si faccia parte di una categoria alla quale si è consentito lavorare perché la novità in zona rossa è che chiudono anche le attività commerciali chiudono i negozi al dettaglio e chiudono anche servizi alla persona come parrucchieri barbieri e centri estetici restano aperti solo i negozi di prima necessità generi alimentari supermercati vendita di articoli per l'infanzia edicole tabacchi e farmacie restano aperte anche le lavanderie e le vendite di prodotti agricoli e florovivaistici chiudono al pubblico bar ristoranti pasticcerie e gelaterie attività in cui resteranno consentite solo la consegna domicilio e l'asporto ma senza la possibilità di consumare sul posto giro di vite sulla scuola chiudono anche gli asili nido e le scuole materne alle elementari medie superiori e università si va avanti con il 100 per cento di didattica a distanza rimane invece la didattica in presenza per gli alunni con disabilità e per le attività laboratoriali in tema di cultura chiudono musei e mostre ad eccezione delle biblioteche con servizi offerti su prenotazione in ambito sportivo sono sospese tutte le competizioni salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal coni e dal comitato paralimpico attività motoria e jogging restano consentite solo in forma individuale e nei pressi della propria abitazione il primo report sui dati dei contagi dopo l'ufficialità della zona rossa fornisce perlomeno dati confortanti oggi si è infatti dimezzato dal 20 al 10 per cento il rapporto fra positivi e tamponi rispetto a ieri sono infatti 423 nuovi contagi su 3983 nuove diagnosi per un totale di 6048 tamponi effettuati i casi a pesaro urbino sono 79 continuano invece a superare le 100 unità giornaliere quelli delle province di ancona e macerata stabili ricoverati 734 nelle marche cioè 5 in più di ieri ma 103 in terapia intensiva ovvero uno meno di ieri nella giornata di ieri si sono purtroppo registrati anche 12 decessi di persone contagiate da covid 19 che portano il conto a 2350 morti da inizio pandemia e alla vigilia dell'istituzione della zona rossa sulla provincia di pesaro urbino è intervenuto oggi il presidente della regione marche francesco acquaroli commentando il provvedimento e allora ascoltiamo la sua intervista il numero dei contagi ieri di oggi fanno ci aprono una speranza una luce in fondo al tunnel però sicuramente la situazione sanitaria in questo momento in particolare nella provincia di ancona è molto critica quindi dobbiamo assolutamente stringerci intorno a questi provvedimenti cercando di rispettare le regole cercando di rispettare quelle che sono le ordinanze che sono state messe se noi andiamo a vedere che noi abbiamo fatto i provvedimenti e abbiamo mosso i primi meccanismi nella nostra regione quando per due volte per due settimane siamo stati confermati gialli e se andiamo a vedere che oggi abbiamo praticamente quattro province su cinque in rosso mentre siamo stati e credo che potremmo essere riconfermati arancioni anche la prossima settimana significa che quel meccanismo dei 21 indici come qualche volta era già stato sottolineato in passato non è un indice e non è un meccanismo tempestivo rispetto alla situazione reale stiamo mettendo in campo tutte quelle che sono le energie che possiamo mettere in campo in una settimana siamo riusciuti e li ringrazio veramente a raggiungere un accordo con i medici di medicina generale li ringrazio dicevo in maniera molto particolare perché la categoria di medici di medicina generale può essere in questo momento la categoria determinante anzi io sono sicuro che sarà la categoria determinante nel sostenere la vaccinazione la vaccinazione a domicilio la vaccinazione per coloro che magari hanno delle difficoltà sono le fasce più deboli e la vaccinazione anche di una gran parte della popolazione come determinante sarà la vaccinazione per il tramite le associazioni di categoria ieri abbiamo dato in giunta un protocollo che sarà sottoposto alla categoria e che già hanno espresso una disponibilità e anche voglio ringraziare anche loro le categorie e le imprese che comprendono il momento di difficoltà e stanno cercando di collaborare con le istituzioni chiaramente lasciatemi dire che un grande ringraziamento va a tutti coloro che nel tracciamento nei pronti soccorso nei reparti di medicina di terapia intensiva stanno combattendo il virus ormai da un anno instancabilmente sempre in prima linea noi abbiamo messo in campo tutte queste iniziative proprio per cercare di essere all'altezza del numero dei vaccini che noi speriamo possa arrivare e per sottoporre chiaramente in maniera volontaria a tutti coloro che vorranno la somministrazione del vaccino credo che il vaccino e la vaccinazione insieme al tracciamento debbano essere i due fattori su cui insistere le due degne strategiche su cui insistere più di tutti in questa fase che ha un anno dall'inizio di questa pandemia e mostra un'esasperazione da parte dei cittadini che giustamente non ce la fanno più come mostra ormai anche una serie di difficoltà importantissime da parte di tante categorie economiche che i commercianti gli artigiani che purtroppo oggi sono chiamati veramente a pagare un prezzo carissimo alla pandemia in questo senso credo che sarà importante capire quello che sarà il decreto sostegno da parte del governo per cercare di capire se e come e quanto potrà intervenire anche la regione che non si tirerà indietro e cercherà di fare la sua parte. Le osservazioni sul DPCM corrente restano valide, sono delle osservazioni che guardano quello che noi viviamo ogni giorno e noi chiediamo in qualche maniera assolutamente che ci sia una possibilità di ristorare le attività economiche che sono disponibili a fare sacrifici anche con le chiusure ma non possono essere abbandonate da se stesse. Ormai sono mesi che aspettiamo questo decreto, oggi credo che sia un termine che seppur il governo è neo insediato e quindi capisco il momento in cui si arriva a lavorare però credo che sia giusto dare un cenno a quella che è una possibilità di mettere in campo queste risorse perché la preoccupazione e l'esasperazione che purtroppo viviamo anche a fronte di queste misure aggiuntive è veramente tantissimo. Ed ora delle novità riguardanti la somministrazione dei vaccini. Infatti da sabato 13 marzo a Pesaro i vaccini non si somministreranno soltanto al centro Monaldi alla Celletta ma anche nella palestra di via Pasolini 7 ad appena 300 metri dal centro sociale. Gli over 80 residenti a Pesaro, Gradara, Gabice, Tavuglia, Montelabate, Vallefoglia, Monbaroccio che hanno già prenotato il servizio di vaccinazione saranno quindi suddivisi tra il centro Monaldi e la palestra. Il comune interviene nell'organizzazione del servizio in attesa che l'Asur attivi altre due aree. Una di queste è già stata individuata e sarà l'ex ristorante Ristò interno a Rossini Center. Ed ora il momento di passare alla cronaca perché due uomini e una donna sono stati denunciati dalla polizia di Fano per gravi episodi di violenza domestica. Nel primo caso una donna e il figlio minore avuto da un'altra relazione subivano da due anni atti persecutori dall'ex convivente che per gelosia controllava ogni spostamento e si produceva in minacce e aggressioni fisiche e verbali. Dopo aver violato il divieto di avvicinamento l'uomo è stato sottoposto agli arresti domiciliari e poi condannato dal Tribunale di Pesaro a due anni e sei mesi di reclusione nel carcere di Villa Fastigi. Il secondo episodio invece riguarda un'anziana donna fanese che in piena notte mentre stava dormendo è stata brutalmente aggredito dal figlio in preda ai fumi dell'alcol. Malmenata la donna è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso e al figlio è stato imposto l'allontanamento dalla casa di famiglia. Nel terzo caso un'anziana è stata fisicamente aggredita dalla nipote tossico dipendente che ha tentato di rapinarla e che da mesi la costringeva a consegnarle diverse centinaia di euro al mese. La giovane è stata denunciata per tentata rapina ed estorsione continuata. E come sapete la zona rossa metterà in ginocchio tante attività ma ce ne sono alcune e che invece sono ferme da più di un anno e questo è il caso delle agenzie di viaggio. A testimoniarci lo stato di sofferenza della categoria abbiamo intervistato Fabio Manno titolare dell'atelier del viaggiatore. Non abbiamo una data di ripartenza, siamo fermi da un anno e abbiamo cancellato prenotazioni da un anno e mezzo quindi novembre 2019. Da novembre 2019 in poi siamo siamo completamente fermi abbiamo lavorato solo luglio 2020 con cali del luglio 2020 del 60 per cento in generale in totale del 90 per cento. A livello di ristori siamo arrivati a luglio 2020 quindi ci hanno pagato fino a luglio 2020 non a tutte le agenzie quindi ancora stiamo aspettando da agosto in poi dei ristori perché siamo completamente fermi. È molto difficile, è normale che c'è un ridimensionamento della forza lavoro perché al momento sono tutti gli impiegati sono in cassa integrazione e sperando che questa situazione migliori presto. Purtroppo considerate un'azienda di un milione di euro di sette dipendenti che si ferma, si blocca completamente con tutte le spese vive e attive naturalmente fortunatamente i dipendenti in questo momento sono in cassa integrazione sperando di rintegrarli mano a mano che l'attività riprende. Il 2021 sarà difficilissimo come il 2020. Noi vogliamo comunque tranquillizzare i nostri clienti dicendo che comunque l'estate in Italia ce l'aspettiamo, la Pasqua no ma l'estate comunque in Italia e in alcune parti d'Europa come Mediterraneo si potrà fare quindi siamo già in agenzia su appuntamento e aspettiamo comunque i clienti per prenotare le vacanze già ad ottimi prezzi dall'estate in poi, da giugno in poi. Questa difficoltà la vostra agenzia di viaggio l'aveva manifestata qualche settimana fa, qualche mese fa anche attraverso dei cartelli che erano stati appesi sulle vostre vetrine? Assolutamente sì, i cartelli che avevamo appeso erano di protesta verso le istituzioni perché fino a fine dicembre non avevamo avuto nessun ristoro. A fine dicembre hanno iniziato comunque a darsi dei ristori. Le nostre attività, le agenzie viaggi, sono in assoluto le più colpite da questa crisi quindi siamo in assoluto quelle che resteranno ferme di più e che sono ferme da più tempo. Sarebbe bello poter vedere le persone venire in agenzia, avere un consulente di viaggio personale perché andare in agenzia vuol dire avere un consulente di viaggio personale, avere i prezzi comunque validissimi a livelli di internet ma con un consulente personale con dei consigli validi per il viaggio. Quindi io invito tutti a venire in agenzia per aiutare le agenzie di viaggio, per aiutare comunque delle famiglie della provincia, della città e vedere e provare quanto figo è un'agenzia di viaggio. E da domani cambia chiaramente l'attività anche di ristoranti e bar ma nonostante l'imminente chiusura per Zona Rossa questo weekend Lastra Caffè ha voluto regalare un sorriso ai suoi clienti della zona rossa con una curiosa iniziativa. Vediamo. È un periodo molto triste se non si inventa qualcosa per tenere un po' alto il morale della gente non è facile. La speranza è sempre l'ultima a morire però sinceramente qui la speranza sta andando un po' via perché troppi contagi, troppe situazioni che si trascinano che forse la causa non è di nessuno perché nessuno ha esperienza per affrontare una situazione del genere. È difficile programmare anche negli acquisti, negli preparativi con il personale. È difficile perché non ci si capisce quando arriva la gente e quando non arriva la gente cosa vuole, cosa non vuole. Magari c'è dei giorni che ci aspettiamo della gente e non arriva dei giorni che non ci aspettiamo i clienti e magari non arriva tanti. È difficile organizzarsi, molto difficile. Grazie a Dio possiamo dire che sopravviviamo perché avendo aperto la gelateria, la pasticceria, la pizzeria, oltre al solito bar, tabacchi, grattivinci. Abbiamo una bella gamma, cioccolato caldo, spremuta di frutta e verdura freddo. Quindi siamo abbastanza contenti, dico la verità, nonostante la situazione. I New Jersey delle Siligate saranno rimossi dall'ANAS, lo ha confermato l'assessore comunale Enzo Belloni nel consiglio comunale di ieri. Attualmente il cantiere sulla strada è stato sospeso in seguito alla nota della soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio delle marche, che ha richiesto l'avvio di un procedimento di autorizzazione paesaggistica. Una situazione che resta provvisoria e i cui prossimi passi saranno valutati sulle procedure che ora avvierà ANAS e sulla valutazione delle migliorie chieste dal Comune di Pesaro, che punta su rotatorie e corridoi ecologici. È stata firmata una convenzione tra Capitaneria di Porto, Comune di Pesaro e Regione Marche, ma anche Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, per la gestione del Porto di Pesaro dei rifiuti accidentalmente rinvenuti in mare nel corso dell'attività di pesca. Un protocollo di corretto smaltimento in cui il Comune di Pesaro, assieme a Marche Multiservizi, provvederà alla gestione dei rifiuti tramite la realizzazione delle idonee strutture di raccolta, fornitura di contenitori utili allo stoccaggio a bordo delle imbarcazioni coinvolte. I pescatori che aderiranno verranno formati sulle procedure da adottare per trasporto e smaltimento. Chiudono anche i musei nella zona rossa, ma l'arte pesarese trova uno spazio espositivo di pregio in Toscana, che è attualmente in zona gialla. Il Mare di Pesaro nel cuore di Firenze è infatti il titolo dell'esposizione fotografica dell'artista Sergio Palmieri e del suo atelier, che si trova in via Castelfidardo a Pesaro. Le sue fotografie, che immortalano scorci di spiagge pesaresi, sono esposte fino al 20 marzo alla Galleria Merlino, di via delle Vecchie Carceri, a pochi passi dal Duomo di Firenze. Ed ora lo spazio delle vostre segnalazioni, che come sempre vi invitiamo a inviarci al numero che vedete in sovrimpressione, il nostro numero di WhatsApp. In questo caso Marco, nostro telespettatore, ci ha inviato le foto che ci mostrano e denunciano la situazione di degrado in cui versano i marciapiedi di via Mozart a Montecchio. Da un lato il marciapiede è occupato da erbacce lasciate crescere da diversi anni, dall'altro lato da oleandri mai potati, eppure un segnale stradale abbattuto e abbandonato sul terreno. Immagini che sollecitano un intervento di organi predisposti per chiaramente migliorare questa situazione. Ed ora ci spostiamo a Montelabate, perché in occasione della festa della donna, il Comune ha deciso di intitolare il parco di via Kennedy alla compianta Anna Rita Albanesi, una poetessa molto stimata dalla comunità montelabattese, come vediamo in questo prossimo servizio. Considera ogni giorno un dono della vita e sarai donna con l'infinito del cuore. 8 marzo 2005 È stata una donna importante per la comunità, non ho avuto il piacere di conoscerla personalmente. Chi l'ha conosciuta parla di una donna di una grande generosità e di sensibilità. Ho sempre sentito parlare di lei, di questa figura, di questa donna che è stata da prima insegnante e poi una poetessa per tutti. L'idea di intitolare il parco è partita l'estate di un paio di anni fa, in occasione di una delle nostre buone notti, quando Roberto Rossi, presidente della Montessabatis, ha lanciato l'idea di intitolare un luogo a questa donna, a questa poetessa. Abbiamo subito pensato cosa fare, perché l'idea ci è piaciuta, apprezzata. E appunto oggi, in occasione dell'8 marzo Festa della Donna, abbiamo intitolato questo parco, un luogo di incontro per giovani, un luogo di incontro per famiglie. Abbiamo scelto di installare questo totem all'ingresso del parco, proprio perché chiunque passi qui si lascia ispirare dalle sue parole, venga incuriosito da chi è stata questa donna e possa scoprire qualcosa di più di lei. Chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale parlando di sport. Come sapete, il nostro programma dedicato alla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, insieme a Canestro, sta riscuotendo un grande successo. E proprio dal programma TV, condotto da Marco Cadeddu, è nata una bella iniziativa della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro, rivolta ad una tifosa molto speciale. Allora vi vogliamo far vedere l'intero filmato che è stato realizzato. Ma raga, voi comunque non potete capire, io ho praticamente perso la voce, non ne posso più, ho svegliato tutto il condominio, vi voglio bene. Ecco, questa secondo me racchiude un po' tutto il tifo, che non può essere presente, ma da casa perde la voce, tiene sveglio tutto il condominio per tifare. Ecco, questa ragazza mi piacerebbe premiarla con un... Ecco, quindi è un appello che fai, speriamo che magari assista la nostra. la nostra trasmissione e ti possa contattare. Premiare lei per premiare con il nostro cuore tutti i nostri tifosi. Possiamo distrubare un attimo? Ciao! 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 Ciao, ciao! Ci fa molto piacere quello che hai postato con i tuoi amici. Sei una granorarima, nonostante... Sì! Non so qual è il tuo giocatore preferito, non lo so. In teoria è Delfino come noi. Noi abbiamo pensato... Noi ti abbiamo fatto la maglietta di Delfino. Lui purtroppo non è potuto venire a firmarla. Se la firmo io va bene uguale? Sì, sì. Sei sicura? Sì, sì. O preferivi Carlo? No. Prova a chiamarla, prova a chiamarla. No, non mi dico che c'è. Non mi dico che c'è. È impossibile, è impossibile. Sì, sì. C'è un giù, sei tanto. No, non mi dico che farei. Sì, sì. Buon lavoro. No, non mi dico, è un giù! adesso facciamo una foto la dedica non la vuoi? no se l'ha già qua la dedica adesso poi facciamo una foto tutti insieme e allora posso solo che ricordarvi l'appuntamento insieme a Canestro giovedì di questa settimana al solito orario 21.15 tra l'altro vi anticipo che giovedì sarà ospite Beretta il main sponsor della VL Basket Pesaro mentre questa sera la prima serata è dedicata ai bambini con Giocart alle 21.15 il nostro programma realizzato tempo fa con gli animatori di Pesaro Village e tanti bambini della città di Pesaro e vi ricordo anche che domani torna una nuova puntata di Casa Rossini domani avremo Aidi Morotti assessore alla sostenibilità e Roberto Marinelli che è presidente dell'Ario Club Fano partecipate chiedeteci insomma informazioni e tutto quello che volete a questo numero di Whatsapp noi vi aspettiamo le 10 in diretta domani è una giornata molto particolare perché se vi collegate alle 20.30 su Rossini TV potrete apprezzare e vedere questo bellissimo concerto organizzato dalla Sinfonica 3.0 l'Orchestra Sinfonica Gioachino Rossini il direttore Norris Borgogeli e ci sarà un omaggio al Giappone nel decimo anniversario del terremoto e tsunami e allora grazie come sempre per seguirci con grande fedeltà vi ricordo di mettere like sui nostri social Facebook, Instagram e di seguire anche il nostro sito internet Rossini TV.it vi do appuntamento a domani con la nostra rassegna stampa alle 7.20 e grazie a tutti